ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi video di eating e comincio subito perché ho fame e vi spero poi cosa sto per mangiare cosa possiamo fare qui abbiamo anelli di cipolla, mozzarelline che però non so se siano un filo o no e patatine con tre sauce cheddar cos'è il taleggio e questo qui dell'old che userò solo un po' per le patatine perché questo adesso mi fa impazzire qua prima beviamo non so se vediate la mia maglia proviamo questi mozzarelline queste andavano lanciate fritte però io ho fatto tutto il forno c'è il fritto di su poi è come in ogni video eating chiacchieriamo un pochino spero che le cose fossero leggermente più croccanti però questo dosire allora questa è la crema al taleggio fatta da mio padre è molto saporita e se effettivamente di formaggio questa è la salsa ho una fame allora volevo un po' spiegarvi perchè non ho fatto eating video di eating per un po' allora praticamente in realtà io un video di eating l'ho girato relativamente recentemente il problema è che mi sono accorta dopo averlo registrato ero soddisfattissima mi ero fatto l'hamburger in casa erano tutti i suoni stupendi mi sono accorta che il nuovo microfono è acceso cioè non acceso ma non in registrazione quindi era acceso io mi sentivo ma non ha registrato e con mia estrema gioia me ne sono accorta la domenica sera quando era tardi per girare un altro video in fase di che me ne sono accorta e poi il brutto dei video eating è che non li puoi girare cioè è andato questo sarà croccante in realtà gli avevo girato anche un altro ancora video eating di dolci anche di quella ero soddisfattissima c'erano un sacco di dolci c'era una torta con la meringa un salame in cioccolato era dopo natale quindi ero piena e lì il microfono si è caricato dopo 2 minuti guardiamo anche adesso no sta pronto e non mi stavo ascoltando perché a volte non ho le cuffie con me non me ne sono accorta e vedo da buttare anche quello dopo aver mangiato mille calorie cioè e la scottatura anche questa è il fatto che tu mangi mangio comunque di solito cioè questo è molto più grasso di quello che mangio di solito non è neanche il video cioè e che a me magari le cose grasse piace mangiarle insieme agli altri no? in compagnia non da sola e quindi quando giro un po' rinuncio al mangiare grasso di quella settimana e rinunciarci per niente perder tempo così è veramente una noia oggi sto mangiando la velocità della luce ho fame che vi devo dire comunque quindi spiegato perché non faccio eating sounds da una vita in realtà ho fatto eating sounds molto recentemente la settimana scorsa infatti in realtà questo no venerdì scorso è uscito lo speciale 500.000 iscritti e lì quello era un video interattivo e ho fatto anche un video eating potevate scegliere di guardare un video eating quindi in realtà ne ho fatto uno però non era strutturato come questo comunque io adoro questa salsa io adoro questa salsa è la mia salsa preferita in assoluto proviamo i collinelli proviamo i collinelli proviamo i collinelli proviamo i collinelli quanto buono pericolino poi poi anche a pari vabbè vabbè e che con ultimamente sto facendo delle facce stranissime ultimamente sono pissata ecco pissata con i video eating di zack joy io guardo solo i suoi tutti gli altri non li sopporto perché non sopporto il male in cui mangiano lui è fine però normale e poi mi piace molto l'introduzione ho un sacco curato il suo canale è bravissimo perché lui manca normalmente invece vedo che tantissime soprattutto ragazze mancano così e ve lo faccio vedere con la pocuccia così perché in questo modo riescono a fare molti più suoni perché mancano anche con gli incisivi però per me è una cosa insopportabile quindi io cerco di mangiare normalmente la mia macella questa salsa è una cosa insopportabile non potevo far guaggere gli anelli un pochino di più mi davano più croccanti ma sì lì mangio queste due patatine cerco queste qua che sembrano un po' di croccanti e poi basta perché sono piena non ho parato tanto in realtà solo che veramente avevo una fame è tutto il giorno che so che devo mangiare queste cose quindi da una parte so che devo mangiare tanto e mi trattengo dal mangiare dall'altra le voglio così tanto e mi viene una fame assurda ok ragazzi penso sia giunta l'ora di abbassare le luce e augurarvi una buona notte buona 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 notte sogni d'oro buona stocce sul l trilogy g Last night sweet dreams what your night sweet dreams good night sweet dreams good night good night Be... Be... Be...